Il progetto nasce su due comuni ed è un progetto targato Città delle Grotte proprio perché lo spirito dell'associazione è proprio quello di mettere insieme realtà diverse e potenziarne sinergicamente le attività e gli sviluppi di carattere turistico e di accoglienza. Il 21 maggio quindi saranno nelle due Grotte sia di Stiffe che di Pietrasecca docenti, tour operators, addetti alla stampa specialistica che raccoglieranno appunto questo nuovo modello e lo svilupperanno attraverso i propri canali in modo tale che le scuole l'anno prossimo nei propri POF possano inserire le visite alle Grotte non solo in termini scenografici o delle impressioni che i ragazzi potranno cogliere nella visita di questi ambienti veramente straordinari.